pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa sesta domenica del tempo di pasqua eccoci davanti ad un testo profondo meraviglioso che ci parla del dinamismo d'amore di cui fa esperienza chi crede noi sosteremo in particolare su due punti amore osservanza dei comandamenti e la consolazione dello spirito vediamo un po anzitutto gesù dice se mi amate osservate i miei comandamenti siamo abituati a dire di aver fede in gesù ma a volte si dice poco di amare gesù e toccante miei cari pensare alla scena della crocifissione quando gesù fisicamente estremato grondante sangue inchiorato una croce disse ho sete vedete non si trattava solo di una sete fisica era anche sete d'amore in mezzo a tutta quella cattiveria a quell'abbandono che sentiva dentro sé si faceva ancora più viva la sete d'amore ho sete come a dire ho sete d'amore ho sete di te di te che tanto amo ma quante volte purtroppo come diceva san francesco d'assisi l'amore è poco amato ci farà bene chiederci ma nel mio cuore c'è amore per gesù noi spesso pensiamo alla fede come una serie di pratiche religiose da fare o alla conoscenza di alcune verità e dottrine cose buone e necessarie ma la fede cristiana parte da altro si tratta di un rapporto d'amore di fiducia con il signore risorto di intimità con dio che si riversa nei cuori di coloro che lo accolgono una volta un maestro ebreo chiese ai suoi discepoli dove abita dio e uno dei suoi allievi disse in cielo in terra in ogni luogo sì disse il maestro ma soprattutto dio abita dove lo si lascia entrare qui c'è il discrimine per un cristianesimo adulto oppure no amare o meno gesù quanti riducono il cristianesimo a una serie di pratiche esteriori magari fatte per pacificare la coscienza finendo per sentirsi meglio degli altri e così ecco giudizi facili durezze chiusure atteggiamenti da peperoncino all'aceto direbbe il papa se mi amate dice il signore pensate l'umiltà di dio se mi amate io vi amo ma vi lascio liberi se mi amate osservate i miei comandamenti se mi ami osservi le mie parole se tu mi vuoi bene cammini con me aderisci a me vivi con me e come me e mi ascolti se cogli la bellezza profonda di ciò che io ti dico è chiaro che cerchi di viverlo e le parole di gesù infatti ci insegnano ad amare ci spingono ad amare qui era chiuso tutto amare dio il prossimo ma noi potremmo leggere tutto in chiave volontarista se ho fede in gesù metto in pratica le regole che mi dà so che c'è gesù e quindi faccio questo questo e quest'altro e devo fare così e cosa no qui c'è qualcosa di più profondo se mi amate se c'è quindi una relazione d'amore un rapporto continuativo con me si parte da qui se tu mi ami la conseguenza che osservi noi a volte pensiamo di risolvere le nostre povertà di uscire dalla nostra mediocrità di risolvere le nostre incompiutezze solo a suon di sforzi cioè mi impegno un po di più prendo questo proposito faccio questo questo e quest'altro e sono a posto per quanto sia nobile buono questo sforzo non basta gesù parte dal se mi ami parte da un altro punto di vista cioè se tu coltivi il rapporto con me l'intimità con me va da sé che osservi alcuni codici antichi traducevano al futuro se mi amate osserverete come a dire sarete resi capaci di osservare infatti l'osservare è un verbo che implica ascolto custodia interiore e quindi pratica esteriore è un avere a cuore l'altro e avere a cuore le parole dell'altro se io coltivo il rapporto con te custodisco ciò che tu mi dici divento capace di farlo per questo non funziona il ragionamento di chi dice no ma io non prego non vado in chiesa ma faccio lo stesso del bene non si tratta di dare un panino a un povero di non so fare un atto di gentilezza questo tutti lo possono fare qui si tratta di diventare capaci di amare da dio di amare il nemico di perdonare 70 volte 7 di perdersi totalmente per l'altro se manca la comunione con dio la relazione con lui non andiamo da nessuna parte siamo incastrati nella nostra paura di perderci nella nostra paura di amare fino in fondo nel nostro egoismo che ci tira a vivere per noi stessi allora se mi amate osservate osserverete sarete resi capaci di amare come io vi amo secondo punto entriamo nella consolazione dello spirito santo ecco gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti vi manderò un altro paraclito lo spirito della verità perché rimanga sempre con voi ecco gesù sta dicendo che lui sta per tornare al padre ma non ci lascia orfani manderà un altro consolatore qualcuno che sta con noi che è lo spirito della verità gesù è la verità in persona lo spirito santo è lo spirito della verità cioè lo spirito che porta avanti l'opera di gesù nella storia che ci rivela che ci convince dell'amore di dio per noi ecco gesù dice non vi lascerò orfani questo è un linguaggio non insolito i discepoli dei rabbini si diceva che rimanevano orfani alla loro morte quando moriva un maestro il suo discepolo restava orfano per orfano si può intendere uno senza padre senza madre o uno abbandonato o qualcuno che non ha nessuno che si curi di lui gesù dice come non funziona così non vi lascerò orfani ritornerò da voi chiaro intendeva la sua risurrezione ma anche la sua presenza continua in mezzo a noi gesù si è reso visibile i primi 40 giorni poi è asceso al cielo e ora è presente non visibile per mezzo dello spirito santo quindi è possibile una unione costante con gesù per mezzo dello spirito santo lo spirito santo risolve quella solitudine profonda che avvertiamo dentro e da cui spesso scappiamo solo dio sa inabitare la profondità dell'animo umano e consolarci vedete la persona che non ha aperto il cuore alla grazia che non ha fatto esperienza dell'amore di dio è una persona profondamente sola noi possiamo riempirci di relazioni di amici di cose da fare tutte cose belle per carità ma interiormente profondamente sei solo arrivano i momenti dove fai i conti con questa solitudine e spesso sono i momenti seri decisivi i momenti del dolore della prova della sofferenza della malattia in ultimo il momento dell'incontro con sorella morte è lì che sperimenti la tua povertà la tua solitudine gesù ci dice che lui non ci lascia orfani che se lo amiamo osserviamo i suoi comandamenti viene in noi lo spirito del padre che se accogliamo lui facciamo esperienza di questo spirito santo che in fondo cosa è è il rapporto tra padre figlio è l'amore che unisce padre figlio è quell'amore che ci fa sentire figli non soli consolati ho davanti agli occhi la testimonianza di una ragazza disabile che incontrai in una missione entrando in questa casa mi parlarono di questa ragazza ormai inchiolata ad un letto da anni poteva muovere soltanto più la testa e parlare invocai un attimo lo spirito santo chiedendo che mi aiutasse a dare una parola un gesto di consolazione beh vi assicuro che uscì da lì io consolato trovai una ragazza piena di gioia con una luce negli occhi meravigliosa che mi diceva io ho aperto il cuore a gesù mi sento profondamente amata dio è gioia ma mi chiedo fuori agli altri portiamo questa gioia ecco l'immagine splendida di una persona che pur nel dolore aveva accolto e viveva di quest'amore che la faceva sentire amata non sola consolata e come diceva san paolo con quella stessa consolazione consolava perfino gli altri vedete questo spirito che rapporto tra padre figlio scende in noi e ci trasforma da orfani a figli in fondo miei cari e concludo ciò di cui abbiamo bisogno nella vita non è tanto di risposte ai nostri mille perché non è tanto di sapere tutto prima ma è di aver in noi lui di vivere uniti a lui di avere la sua grazia la sua pace la sua forza per riuscire ad amare ad affrontare ogni cosa non da soli non da orfani ma da figli con lui insieme con lui e tutto ciò sarà possibile tanto quanto lo ameremo e osserveremo la sua parola che il buon dio vi benedica